Ciao ragazzi, io sono Enrico Pasquale Pratico, a Butamotta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna, sono un carino ragazzo, trovate a me su ProZappo Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, così mi trovate voi e su ProFastbook Enrico Pasquale Pratico, ciao, la mia vita sono qua, io cattavo la play Session 3, ho il telefono Samsung Gales Grand Neo e voi che facete, ciao!